E' chiaro che un pizzico di delusione c'è nei ragazzi perché erano convinti di meritarsi questa finale e devo dire che ce la saremmo ampiamente meritata e quindi ecco solo un pizzico di delusione per il sogno che ha sfumato i rigori, però resta un torneo sopra le righe dove i ragazzi sono stati straordinari, hanno messo in campo veramente tutto quello che avevano con grande cuore, con grande umiltà, quindi c'è solo a dirgli grazie per tutto quello che hanno fatto. No, abbiamo fatto tutto il possibile, forse il primo tempo eravamo un pochettino contratti, siamo partiti un pochettino contratti, però eravamo anche all'inizio della partita e la sesta gara in pochi giorni, quindi questo ci poteva stare. Il secondo tempo è stato di livello strepitoso, peccato magari non aver chiuso la partita nel finale perché abbiamo avuto un paio di occasioni che sono uscite veramente di pochi centimetri e magari lì ci poteva stare il colpo di grazia, però le partite vanno così. Adesso bisogna intanto essere bravi a recuperare le energie fisiche e mentali perché questo è un torneo che sicuramente ci ha prosciugato da questo punto di vista, quindi dovranno essere bravi un po' tutti a ritrovare subito le energie mentali giuste. Da martedì si ricomincia perché sabato abbiamo la Lazio, quindi è un avversario difficilissimo fuori casa, però credo che al di là di come finirà il campionato, credo che abbiamo avuto l'opportunità di far vedere i nostri ragazzi e far vedere che la qualità con cui stiamo lavorando sicuramente è buona e siamo sulla strada giusta. Grazie. Grazie. Grazie.